secondo me il debutto è stato molto molto bello era un qualcosa di vociferato già da da un po di tempo penso sia una valida validissima alternativa e inserimento all'interno del bcc perché veramente perfetto lì dentro e mi ha fatto un po strano non vederli o comunque non vedere non vedere concludergli un match con la con la sua mossa finale che aveva in in wb ma vederlo con con la power bomb con quell'incastro di x dietro la schiena e va beh questa qua il commento che ho fatto io su facebook è un po però ci stava bene ci stava bene assolutamente e si è comportato bene come diceva vali all'inizio è stato uno dei motivi per cui uno dei momenti per cui ricordare for bid and or anche perché se ci fate caso alla fine quando c'è proprio il risso ne finale l'ultimo ad entrare che basta salvare tutta quanta la pratica è proprio è proprio claudio mi fa strano di chiamarlo claudio ormai sarà claudio per me quindi l'amico un amico un amico è entrato claudio però appena aperto il canale twitch ho pensato ok questo arriva certo però match molto buono davanti avevi zack saber junior con la maglietta di cookie non gli si può dire niente sono sono due che ne masticano di wrestling di tech wrestling soprattutto quindi va va benissimo va benissimo così c'è hype per settimana prossima per il blood and guts perché lui è uno di quelli che le botte le dà quindi il nostro amato chairman daniele donzi ci chiede qualcuno ha detto gestione sbagliata degli giapponesi ecco vale qui faccio intervenire un attimo te per capire bene cosa è andato storto nel fatal four way e magari nel main event definitivo del del pay per view io una cosa che onestamente non ho apprezzato è stato il fatto di dover far tirare fuori tutto quel sangue che ovviamente caro popolo di tutti sapevo che non è sangue ma è ketchup nel main event appunto valido per titolo ad interim della elite cioè mi piace più quando la cosa sia naturale all'interno di un match estremo piuttosto che all'interno di un one on one dato che quello stile magari lo abbiamo lasciato un po nel passato no sì il fatal four way e a quanto pare a quello che abbiamo un po' visto noi quando l'evento sia quello che si legge in giro sembra che qualcosa non si è andato come doveva a quanto pare a duncole per quello che si legge ha subito un infortunio ancora non sta bene l'entità la gravità però ecco qualcosa è andato storto il dubbio anche il fatto di j white insomma se invece doveva finire in quel modo se il pin doveva essere j white su colo altre cose diciamo che in diretta è stato strano perché appunto okada ha subito una mossa quindi j white invece di il pin suo caldo è subito su alan cole che comunque era k o a terra non santo avesse subito una mossa su okada quindi questo un po un piale un po come si può dire anticlimatico anche perché appunto è arrivato un po quasi all'improvviso quindi questo è un po fatto storce il naso appunto come è avvenuto e invece bene 20 mozzi contro Tanakashi come dici tu non siccome non era così necessario questo che mozzi si ferisse così come è avvenuto all'evento perché magari non so un hardcore match un match comunque anche con non so è definito contro mozzi qualcuno un po più battagliere però ecco Tanakashi che come negli ultimi anni non è che è famoso per i suoi match con il sango con il ketchup comunque ecco non è un po' il presagio che associi a altri tipi di contesti quindi ecco un po un po fa strano e tra l'altro vorrei allacciarmi a questo questo commento anche dal fatto ho visto anche la conferenza stampa post post evento il momento in cui c'è la conferenza nel momento in cui c'è Okada di fare una domanda c'è un bambino che è un ragazzino che ha fatto tipo la domanda è quanto è difficile per un dottore giapponese comunicare con atleti in lingua inglese comunque c'è qualche difficoltà è stata forte che la traduzione che gli ha fatto il Chris Charlton e il commettore di New Japan l'ha un po' incartata diversamente che non gliel'ha fatta la traduzione in maniera così perché da smart ma gli ha fatto un po' come la comunicazione con l'arbitro comunque con tutto lo staff comunque perché ovviamente quando vedi l'ultore giapponese non ti può comunicare apertamente che comunica con gli altri per come fare i match quindi è questo l'ho fatto che comunque il linguaggio del wrestling universale non ci interessa inglese giapponese quindi non c'è nessun problema quindi ecco qualche tutto sommato sì due match forse hanno avuto qualche cosa che poteva andare diversamente però ecco come dicevo anche inizio della live tutto sommato è un evento che ci ricorderemo positivamente questo sicuramente c'è il commento di Jerry che dice io chiedo a voi solo a me Okada quando è arrivato in Orelite settimana scorsa sembrava lo stereotipo del giapponese che si trova lì per sbaglio e magari con la macchinetta fotografica vedo un prof abbastanza cioè sembra che stia camminando sui sui carboni roventi ecco quindi prof prego prego allora lo dicevo anche prima ragazzi a me Okada ha dato l'impressione ieri rispetto alle altre volte in cui l'avevamo visto ossia super card of honor dove aveva però contro un lottatore giapponese lottatore giapponese un lottatore adattato allo stile giapponese ragazzi l'ho trovato fuori luogo Okada secondo me l'ho trovato molto lento molto macchinoso non lo so a me non è piaciuto per nulla ieri io quando lo vedevo ho detto ok fighissimo c'è Okada lì dentro vediamo che fa poi lo vedevi passeggiare nel ring magari con la solita mentalità che in Giappone c'hai 40 minuti per fare il match eh tanto tanta parte centrale ehm molto striking invece quello deve essere un match molto molto più veloce molto più lottato non lo so ragazzi io l'ho trovato veramente fuori luogo cioè per me lì dentro in quel match non c'entrava nulla perché Jay White lo sappiamo è abituato a lottare in qualsiasi modo poi è sono quasi due anni che che lotta fisso negli Stati Uniti a me io l'ho Okada l'ho visto molto adattato allo stile cioè lui allo stile giapponese nel sangue e fa quello infatti si è visto in alcuni momenti per esempio quando si è tuffato a bordo ring quelle là sono le classiche scene che vedi in che vedi in Giappone però poi all'interno del ring e magari c'era lui contro un'altra persona non so contro un contro White stesso contro un collo contro un page lo vedevi molto molto affaticato molto stanco è lì che camminava nel ring faceva la mossa lenta per fare per provare a fare una Rainmaker ci ha messo cinque minuti non lo so io l'ho trovato fuori posto sarà forse il fatto che in Giappone in particolare per questi match così importanti non sono abituati a queste tipologie di incontri sempre il father for way sempre il triple threat io ricordo una contesa che si venne fuori in modo positivo ma non fu così eclatante tra Cody Rhodes Kenny Omega e Cody Bushi se ben ricordate parliamo del settembre 2018 circa o qualcosa del genere forse era King King of Pro Wrestling guarda lo ritrovo per sicurezza comunque sono le mie impressioni e poi magari voi l'avete Okada per voi è stato perfetto all'interno del ring per l'interno del match io l'ho visto fuori luogo ma sicuramente Okada è uno di quei wrestler che ti rende benissimo in un one on one perché comunque è uno di quei wrestler che sa creare l'epicità del momento che è un pochino anche lo stesso discorso di Jay White in maniera totalmente opposta perché Jay White è uno che gioca molto in sottrazione per poi esplodere nel finale infatti quando si è creata tutta questa situazione io ho pensato ma come lo inseriscono Okada perché il match multiplo onestamente non è che non mi sconfinterasse perché da un punto di vista qualitativo poteva venire sicuramente un bel match ma è proprio per la tipologia di due atleti come Okada e Jay White che sono due che ti rendono perfettamente nei match singoli Jay White tanto tanto è uno che si sa amalgamare molto bene soprattutto perché negli ultimi anni ha lottato principalmente in occidente complice alla pandemia e complice comunque il fatto che lui è di natura kiwi quindi è neozelandese quindi un pochino è più vicino a questa commistione tra oriente e occidente Okada è un match in ultimo io ho detto sì sì si è anche sposato tra l'altro bellissima la foto del matrimonio lui con un six pack perfetto della serie ok rubo la scena alla sposa e chi la vede più però sicuramente il fatto è questo Okada doveva essere inserito perché è Okada e lui stesso se vi ricordate due mesi fa aveva twittato fa ma cosa fanno Forbidden Door senza di me ma che stiamo all'Inghilterra cioè vengo subito e via è solo che a un certo punto come fai a inserire Okada? Lo potevi inserire solo in quel contesto questo ovviamente è frutto di una serie di sfortune che si sono create e non è certo colpa di così però Okada è uno di quei di quelli di quei wrestling che nei multi man match rende molto meno cioè ti sembra quasi un wrestler buono ma non eccezionale quale è lui in realtà poi mi fa riflettere tanto la dichiarazione di Claudio Castagnoli nella conferenza stampa post dove dice mi sento come un bambino all'interno di un negozio di giocattoli perché qui posso lottare contro chiunque perché c'è un alto materiale un alto tasso di materiale a me utile per fare dei match storici o comunque importanti per la mia carriera ecco Paolo tu contro chi vedresti bene o perlomeno qual è il tuo effettivo dream match di Castagnoli non elite ma penso che il mio pensiero si allinea un po con tutti mi piacerebbe vederlo magari contro Kenny Omega ma effettivamente Castagnoli si è distinto anche in WWE nel riuscire a comunque a fare ottimi match praticamente contro chiunque nel sapersi mixare bene contro qualsiasi avversario quindi effettivamente come ha detto anche stesso lui nella conferenza post pay per view davvero si potrà divertire e soprattutto ci potremo divertire cioè le componenti per eventuali dream match sono davvero infinite infatti quello di Kenny Omega diciamo è il primo nome che mi è venuto in mente ma ce ne sarebbero veramente tanti ma tanti ma tanti altri e lo vedremo sicuramente in grande sporbero nel blot and guts match di mercoledì notte e io sono davvero contento per lui perché comunque in questa permanenza in WWE di dieci anni comunque fondamentalmente dal suo debutto nel 2011 lui è comunque non ha potuto mostrare appieno le sue potenzialità perché comunque come ben sappiamo è un tipo di prodotto totalmente diverso ad esempio dal prodotto AEW più incentrato sull'ottato sul progressivo infatti ti ricordo che si diceva in continuazione se in WWE venisse premiato esclusivamente il lottato Cesaro sarebbe un multi time world champion quindi adesso in AEW è davvero libero di esprimersi e io infatti se fossi in Tony Khan qualche soddisfazione gliela darei qualche titolo anche Massimo mi piacerebbe vederlo con il titolo mondiale perché effettivamente se si deve premiare il lottato Cesaro è davvero un fuori classe uno di quelli che in ring può fare letteralmente di tutto e di più quindi davvero io sono molto entusiasta e sono contento anche umanamente per lui che potrà togliersi ottime soddisfazioni comunque in una seconda parte di carriera perché comunque Cesaro è in avanti con l'età anche se il suo fisico non lo dimostrerebbe e quindi ben venga sono davvero sono davvero contento e ho davvero voglia di seguire questo suo nuovo capitolo di carriera. Poi tra l'altro questo scontro tra loro due ha già avuto luogo a Final Battle 2008 quando fu proprio Kenny Omega a sconfiggere il buon Castagnoli che poi di lì a poco insomma dopo un annetto abbondante andrà in WWE e sappiamo tutti il tipo di carriera che ha avuto. Ecco torniamo un attimo sul discorso FTR invece. FTR che ormai sono campioni di coppia ringofono, campioni di coppia AAA, campioni di coppia New Japan, io penso che a parte i teori di coppia di WWE ma anche solo quelli di Impact. Ecco vogliamo far dominare totalmente la scena e magari anche quelli della MLW e dell'NWA a questo punto. Vogliamo far dominare completamente la scena agli FTR? Vale? È l'erroi momento ma è da messa a questa parte il tag team più popolare al mondo praticamente escluso un po' l'universo WWE però ecco FTR in Messico, in Stati Uniti comunque sono hype al massimo in questo momento per loro quindi come dicevamo prima un po' l'esito del match ieri era abbastanza prevedibile secondo me ecco questa Cavalco. Grazie. Grazie. Grazie.